Bene ragazzi, oggi siamo qui con questo video dove ci riguarderemo i nostri video a velocità dimezzata, ovvero a velocità 0.5 Perché ci siamo accorti che guardando i video a velocità 0.5 sembra che siamo fatti Sì, perché non lo siamo? No, infatti, però c'era un video dove io mi tagliavo e cerchiamo la figa, era questo qua Aspetta, allora Quando ancora c'hai la barba Sì, se questo qua noi lo mettiamo a velocità 0.5, adesso comincia lo spettacolo, rega Siamo tornati qui con un nuovo video su Almeno l'ultima volta Abbiamo cercato un grandissimo Famo Chiamasi un altro sinonimo Cielo, pesce, fama Pisello Vabbè, comunque Pisello Sarpa al tempo Falta tempo Ferrogrino Ferrobrino Vedere il bordo No Poi l'erascolo Lasercrest Cioè non ci ha fatto in sé serie, guarda Che cazzo Cazzo che hai detto Ma i c'ho uggisci Corri Vega Pazzo eh È la nuova Selena Poi Comunque lui pare troppo ubriaco, rega Oggi siamo qui Per cercare una cosa Aspetta La patata Oggi siamo qui per cercare una cosa Importantissima La patata Rignas Stavo cercando la frignas Chi ha dato Vabbè Per farla Gnagna La Gnagna Per le donne Abbiamo cercato quella E per l'omini Ovvero me Perché lui Perfedece altre cose Aspetta 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 Ma la chiamata Tu madre Ooooooh 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 Cambiamo il video, aspetta Di ritardo che sono i miei gradi Sono i miei gradi Qui con una nuova Challenge Dd Dd Un'altra volta L'hanno fatto Obbligo Rega guardate i miei occhi Sono ubriaco A quello normale Yes Questo cosa Abbiamo detto Che Se arriviamo a Top Like Facciamo estremo Ed estremo Ragazzi Cari Da roba Veramente E S S S S probabilmente riproviamo no like a questo video e faremo la il livello infatti io parlo e lui ancora sta cercando di la cosa prima guardatelo guardate attentamente lui io parlo lui ancora sta cercando di dire la cosa di prima una sfida del top like a questo video e faremo un altro livello hot che non sta qui oh you touch my talala a qui ti piacerebbe molto dare una lezione almeno una volta? due mongoloci qualsiasi intellettivo venti quelli che scrivono primo no 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 ma cazzo di ricky che tu sai c'erano qui con la seconda parte Sì, abbiamo fatto una garda! Abbiamo appena dovuto fare video sul cane suo dove... Ci siamo fatti tre cannoni! Guarda, guarda che sto a fare! Chi è? Tra l'altro, ecco, mi stai scegliendo un altro uomo! No, ragazzo, lo giuro è l'inferno insceso in terra! È più piccante di quelli freschi perché... ...perché, come questo, t'artiene più la cazzicinata! Allora, la cazzicinata è proprio! Momento super quank! Che va in terra! Di sara, di sara, di sara! La cazzicina! Negli algoritmi! Negli algoritmi! Non c'è, non c'è! Non c'è, non c'è! Non c'è, non c'è! Io e Matteo siamo convinti che si è allucinato! Sì! E' infatti! E' proprio così! Sì! Io mi guardo che mi sono stato convinto! Ma il mio figlio! Ma il mio figlio! Spero sul nostro mondo! Sì! Ovvero... Trefati, guarda! Non c'è, non c'è, non c'è! Non c'è, non c'è, non c'è! Non c'è! Sbagliati! Come è che sta, non c'è! Non c'è, non c'è! Non c'è! Non c'è, non c'è! Non c'è! Non c'è! Ma adesso anche qua non c'è! Non c'è! La vado là! Guarda, guarda, sta c'è! No! Far! Aspetta, questo è sparta! Il fio dei cavi! Ho visto, ho visto, ho visto, ho visto uno che raccoglirò i fiori, tu guarda un gay. Evo che cosa fa? E' successo che un padre era quel gay, in realtà, non voglio dirlo, però in realtà, è il gay con cui io faccio domani. C'è un po' io devo ascoltare, lo sai, è perché con il senso che io ci ho pensato il masso, io invece uso la pazzia. Non fa la piega, giustamente, discorso fantastico. Ci pensa, è difficile da dire. Noi preferiamo usare tipo, che ne so, cose un po' più... Tipo, dai. Esotico. 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 Tipo l'aceto. Ah, l'aceto! Ma che cazzo ha il senso? Non sforziamo! Ma vedi? Vabbè. Pure non ci possiamo stoppare qui. Allora ragazzi, se questo video vi è piaciuto, vi invitiamo a lasciare 10.000 like, sì, ho detto bene, 10.000 like, per vedere un prossimo episodio, dove faremo altri reaction a questo video. E' stupendo, ragazzi, provate a farlo con i video degli altri youtuber, con qualunque persona, con i nostri. Metteteli a 05 e pensate che sono fatti. Allora, sì, se vi è piaciuto, ragazzi, arriviamo a 10.000 like e facciamo un secondo episodio di questo video. Sì, per forza, mi sono tagliato. Stavo con i lacrimi all'occhi. Comunque, niente, grazie a tutti e noi ci becchiamo al prossimo video. Bella! Ciao!